Eppure, tutto coinciderebbe. L'indottrinamento dei due fratelli Ucapide e degli altri cinque ragazzi che componevano la cellula di nove genisti che hanno colpito sulle ramblas. Vado in moschè a tutti i giorni, lì ho incontrato i fratelli Ucapide e gli altri, ma non ci ho mai parlato. Li conosco, ma non sono amici e non li ho mai visti qui nell'appartamento di Islam. L'Islam non c'entra niente con loro. L'Islam non è questo. L'Ordina è impreoccupato, parla ancora male lo spagnolo e lavora dall'alba in un mercato per riuscire a far venire qui nella sua famiglia il prossimo anno. Lavoro tutti i giorni e vado in moschea, vivo così. Adesso ho un avvocato che mi segue e la polizia mi ha interrogato più volte. Ma io non so nulla, ha detto a chi con me si è sempre comportato, come un uomo normale. Le famiglie dei killer ragazzini quasi non li riconoscono, i figli, i nipoti, i fratelli. Dolore e sconcerto che per i parenti hanno una spiegazione solo all'infrotto più dei loro figli. La sorella di Mussau capire, il più giovane componente della cellula che ha vista di Barcellona, morto a caminezza, ai microfoni di Rennius non si capacita. Un ragazzo di 17 anni e un bambino non sa cosa ha incontro, ma un po' voglia di uccidere qualcuno. Lo hanno trovato, lo hanno plaguito. Ad incolpare apertamente le mamme di Repol, dove Mussa viveva con il resto della famiglia, e il padre Saida è ritornato in Marocco, raggiunto da un cronista del mondo, Albala, paese locale incastronato tra le unità di un miglior valante, Saida raccolta le mamme di Repol, che ha messo a Puglia di Repol, che è un uomo 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 che è un uomo. Sì, buongiorno, qui c'è un attimo di confusione perché in questo momento ci hanno fatto allontanare...